e faccia raddoppiare le pattuglie. Venite, tesorucci, venite. Hanno la peste. Magari li prendesse tutti e prima degli altri il barone. E se non li prenderà la peste ci penseremo noi. Chi siete? Siamo dei pescatori come voi. E siamo sempre pronti a far valdoria e a combattere le guardie del re. Perché venite da noi? Perché tu hai tutta l'aria di un ribelle. I ribelli io li conosco all'odore. Che tu ci abbia conosciuto può anche darsi. Ma noi non ti conosciamo per niente. Non faremo domande. A noi sì. Quello che ho sentito dire di allegbra mi basta. Gli vogliamo parlare. Non gli dispiacerà avere altre quattro braccia robuste dalla sua. La fiducia non è il loro forte, vero? Dovremmo dimostrarla la nostra ammirazione per il libro. Tu mi hai tolto la parola di bocca. Una bella rissa con le guardie. Andiamo. Cambio di guardia. Controne. Beh công suite. Earemta. Perdominati. Perdominati. Non? Perdominati. 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 Alla prossima! Evviva la Repubblica! Prendete parti! Evviva il Libre! Arrattateli! Arrattateli! Arrattateli!